forza applicare il massaggio Silvio ci spieghi in questo momento che cosa stai facendo come si fa a chiudere le macchine hai lasciato le chiavi dentro come si fa super presidente quindi ancora dobbiamo arrivare a destinazione già siamo rimasti appena non potendo rimanere a piedi col motore fuso se rimaniamo a piedi almeno con la macchina chiusa mi sembra una cosa buona avanti non ti aprono se fusi mamma mia se non è possibile per immaginare la macchina mia guarda però io so anche come si aprono le macchine Nicola se mi dà il cilavite quello va fissa sempre se capite c'è la zio Silvio mi ha avvicinato dove vuoi avvicinare la macchina e lo pittammo qua con la coppia eh teniamo pure Artema sicuramente oh guarda Artema che bella che sangia è una cosa ma aspetta l'apre lui la macchina è girata l'apre lui e come fa? come sei bello nella telecamera? zio Mimmo Mimmo ma com'è possibile? guarda come è bello guarda po' il presidente io abbraccio il mio presidente dobbiamo fare altri 80 km di 200 metri produzi bello in tuo telefono in tuo telefono? guarda che ti faccio vedere Mimmo quando era piccolo ecco questo è il suo giocattolo preferito esatto questo è il suo giocattolo preferito MOV secondo me anzi no lo sconfatozo c'ha troppo testa ma che Artema sta fa Mimmo ma è arrivata pure Artema ah si io oh vabbè oh vabbè mi stavo a mettere sul bello ma non mi muovete ah questo no ci farebbe ma vabbè questo si scherza il bello ma è arrivata è che è il mio eh sembra che non mi ha fatto il bello non mi muovete ma non mi ha fatto il bello ma non mi ha fatto il bello ma non mi ha fatto il bello no ma la batteria non mi ha messo abbiamo un cacciavite un po' il presidente è sempre presente se non ci fossi attenti se non ci fossi attenti vediamo una pila o qualcosa eh una pila 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 non c'è la pila pila no vediamo la pesca miracolosa qua è in grado se li scoprirà un colattino e poi ci si sa un divertente eh ah ah no possiamo mettere un po' la cosa della fotocamera eh io non vedo la cosa perché mi sa che da qui andiamo a vedere se riusciamo a... un po' il vetro si spesa sotto dovrebbe starci eh sì una testa devi trovare un attimo al surf lì a picchiare 2 euro quando non si dispensi ma ci fa eh Mimmo tu ogni tanto provo con smizzi ti ho mandato ti ho mandato a trovare un filo di ferro a picco dove ce l'hai da? trovata la lucina oh 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 si sacca si sacca si sacca ma che è stacca? come c'è la direttora di volare? adesso è la ignoranza che lo fanno ma tu cammini con me che ti dica serio ma sai che l'hai da qua ma sai che l'hai da qua non prenda la macchina ma non prenda la macchina ma guarda qui è quello che tu l'hai da qua ma non prendo la macchina ma c'è una lampadina vai via io più che alletarvi con le mie stronzate ho mandato il custode a trovare un pezzo di ferro migliore grazie